Ciao a turuturututti i cittadini di youtube e benvenuti in questo nuovo video Io sono Miss Croft e come potete vedere sono in piedi E sono blu E fin qui va bene La prima domanda me la fa a Thomas No Panic che mi chiede Inizio una serie su Crash Bandicoast CTR? Allora ragazzi Crash Bandicoast CTR Non lo conosco Non l'ho mai conosciuto come titolo Ho guardato qualche video E penso di portarlo sul canale Perché comunque è un gioco di Crash Che già di per sé è epico In più che le macchine Cioè che il killer vende Wow La prossima domanda me la fa Ronnieman Hashtag Miss Vlog Fare uno speciale per i 100 video e per i 100 iscritti Bella Miss Bella Ronnie Allora Speciale 100 video Questo è uno speciale 100 video Devo bastare come risposta E 100 iscritti ovviamente lo farò Perché comunque è uno dei pochi traguardi su youtube che l'ha festeggiato L'ultima domanda di oggi Me la fa Miner Dex Certo Che mi chiede Hashtag Miss Vlog Epica la vocina Comunque fare una challenge come la Chubby Bunny O la Blunt La Blunt Se si con chi la faresti Si farò queste sfide ovviamente Però con chi Non lo so ancora O magari lo so E sono cattiva E non voglio dirvelo Può essere Prima di concludere il video Tutte cose Ditemi cosa ne pensate Dei miei capelli Se sono pazza Se almeno sono pazza Se ho bisogno di un ricovero psicode Sono un psicologo Quindi ragazzi Per questo vlog 100 iscritti è tutto Sì vi ricordo di lasciare qualche domanda Qui sotto con hashtag Lasciando stare la mia firma Ragazzi Per questo video è tutto Lasciate un mi piace Iscrivetevi E ci si vede al prossimo video Bella ragazzi